bentornati su little chinatown oggi abbiamo un colore diverso sullo sfondo infatti il formato di oggi è diverso e si chiama impressioni a caldo che vuol dire sarà una breve descrizione un breve diciamo resoconto di quello che ho appena visto e che sicuramente di cui vi voglio parlare quindi non vi aspettate una recensione dettagliata è semplicemente una guida alla visione ovvero ho visto questa cosa è fichissima ve ne parlo in breve e vi consiglio subito di andarvelo a recuperare in questo caso stiamo parlando di un film molto molto recente infatti è uscito sul mercato da circa una settimana qualcosa del genere sto parlando ovviamente come avrete letto nel titolo di zombie contro zombie ragazzi ho sentito tutti parlare bene di questo film infatti già per questo avevo grandissimi grandissimi dubbi ma quando si parla di cinema asiatico se tutti ne parlano bene molto spesso è un grandissimo capolavoro mi è successo per tantissimi film infatti ha preso il premio dal pubblico tantissimi tantissimi premi e tra l'altro è stato presentato a circa 80 festival in tutto il mondo ragazzi è qualcosa di spettacolare io l'ho appena visto e vi consiglio subito di andarvelo a comprare costa un quindicina di euro qualcosa del genere non ho veramente parole per spiegarvi praticamente i primi 35 minuti sono un piano sequenza cosa è un piano sequenza semplicemente si gira senza mai fare tagli senza mai staccare la ripresa un piano sequenza di 35 minuti che è interessantissimo ed è stile horror infatti stiamo parlando di zombie in realtà poi capiremo che il vero film è su altro e tu in questi 35 minuti cerchi di capire che cacchio sta succedendo e soprattutto che cacchio stai guardando è tutto girato da una telecamera a spalla e la qualità ovviamente non è il massimo quindi tu sei un po' stranito perché dici io nel 2020 praticamente sto guardando una cosa girata così male e sei un po' stranito per quanto riesci a capire la genialità della cosa perché un piano sequenza dei 35 minuti funziona qualcosa di assurdo ragazzi cioè mantenere alta l'attenzione dello spettatore per 35 minuti è qualcosa veramente un'impresa molto ardua dopodiché dal 35esimo minuto finisce la storiella praticamente la storyline principale e tu dici ok è successo tutto quello che doveva succedere adesso che cosa succederà invece no riparte tutto il film e diventa una commedia una commedia che vi fa morire dalle risate e vi fa capire il vero significato del film e qual è il vero cuore del film non è un film horror ragazzi non vi lasciate ingannare dal titolo zombie contro zombie è una commedia che vi farà morire dalle risate ma soprattutto vi farà apprezzare la genialità la genuinità e veramente il genio di questo regista che è Shinichiro Gueda che è qualcosa veramente di impressionante che vi lascia a bocca aperta io veramente voglio cominciare questo format con questo film perché veramente ne vale la pena e voglio che ve lo vedete tutti ragazzi recuperatelo dove volete i streaming non credo ci sia perché è uscito veramente da poco non voglio fare la recensione perché una recensione sarebbe troppo spoiler io voglio che voi vi vedete tutto da soli non voglio anticiparvi nulla io vi ringrazio per l'attenzione vi saluto queste saranno impressioni a caldo un po' più veloci video un po' più veloci rispetto alle recensioni però insomma fidatevi di me ragazzi questo è un capolavoro come se ne vedono veramente pochi io spero venga candidato a film dell'anno perché è qualcosa di imperdibile e irripetibile noi ci vediamo con un prossimo video a presto